One Day. One Day è il film che vediamo oggi, un titolo ingannevole, come era ingannevole il titolo del romanzo da cui è tratto, sempre One Day, di David Nichols, uno sceneggiatore inglese che ha scritto anche qualche romanzo e che ha collaborato la sceneggiatura proprio di questo film tratto dalla sua opera. Perché è ingannevole questo titolo? Perché One Day si riferisce a una data, il 15 luglio, ma si riferisce alla ricorrenza del 15 luglio, quindi non è un giorno, sono tanti giorni, sono tanti 15 luglio successivi che cominciano dal 1988, l'anno in cui i protagonisti di questo film si incontrano, fino al 2011. È una storia d'amore raccontata con una scansione temporale di anno in anno e che ogni anno ci va a raccontare in che fase si trovano i protagonisti. Stanno insieme, non stanno più insieme, uno ama l'altro e l'altro non ricambia, oppure è un periodo felice della loro vita. Ci sono gli alti e bassi che spesso ci sono nelle storie d'amore ed è un film che attraversa tutte le difficoltà che l'amore può incontrare nella realtà. Il protagonista, Jim Sturges, è un personaggio ambiguo, è un presentatore televisivo che però disdegna il successo, quasi se ne vergogna, quindi è un personaggio a suo modo tormentato e forse anche questo rende più difficile il suo rapporto con la donna di cui si è innamorato, incontrandolo in quel fatidico 15 luglio del 1988, che è interpretata da Anne Hathaway, attrice premiata dall'Oscar, una delle attrici più versatili del giovane cinema americano. È un film, dicevo, romantico, realistico, diretto da una regista che coi sentimenti ci sa fare, è una regista danese, il suo secondo film inglese dopo An Education. Questo film precede di tre anni posh che abbiamo visto sempre sui Rai Movie qualche settimana fa, lei si chiama Lune Sherfy e beh è perfettamente a suo agio con il parlare inglese. Ecco, se posh era un film in cui si sentiva il punto di vista esterno di una persona che non era inglese e raccontava le future classi dominanti dell'Inghilterra, qui no, qui sappiamo che sa di cosa sta parlando. Sta parlando delle ragioni del cuore, delle ragioni della mente, delle difficoltà di riuscire a conciliarle. One day stasera.